Paolo è un'altra vita di Spassania Uno più bravo dell'altro E ora passiamo ad un altro grande ballerino Si chiama Luca Sin dall'età di otto anni Ascoltava Michael quando uscì il Thriller Ed allora Michael l'ha sempre accompagnato nella sua vita Ora ci alletterà Parlando Madeleine tratto da Billie Jean, Simons Criminal e Thriller Luca Oh bravi ragazzi Bravi Buongiorno 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 Ok, ciao! Grazie. 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 Grazie.